Un vero lettore di fumetti, come me, che se ne fotte di tante cose Non si fa tanti problemi, io per esempio stavo aspettando da tipo un mese e mezzo questo uomo ragno natale Che mi è arrivato finalmente tutto spigazzato, bagnato dalla pioggia, guarda qua Ah, spettacolo, ma non me ne frego, me ne fotta la grandissima, portate che me lo leggo Ma chi se ne frega, i problemi sono altri, dai Uomo ragno natale, anche se siamo a giugno, a chi se ne frega Natale poi del, questo era del 94, questo numero speciale, sì, uscì nel novembre del 94 Che io me l'ho lessi quando ero piccolo, perché me lo ricordo benissimo questa storia E non vedevo l'ora di recuperarmela su ebay L'ho trovato a un prezzo, devo dire, basso, sicuramente basso E quindi va bene così, ok? Non fa niente I fumetti noi ce li leggiamo lo stesso Anche se rovinati Ho ho E quindi va bene bene, va bene bene